Serena Rossi ha detto fatto, e Caterina Ballivo quando torna?. Detto fatto con Serena Rossi, ecco quando torna Caterina Ballivo. Alvia oggi la nuova edizione di Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai 2 dedicato ai tutorial, trasmesso dagli studi Rai di Milano. . E inizia con una grossa novità la stagione 2017-2018 di Detto Fatto, visto che alla conduzione, come si sa da tempo, non ci sarà la storica padrona di casa Caterina Ballivo bensilattrice Serena Rossi. . La Ballivo, ricordiamo, è diventata mamma per la seconda volta da alcune settimane, è perciò assente causa maternità e non la rivedremo al timone del suo seguitissimo programma della seconda rete per un po', essendo impegnata ad occuparsi della sua secondogenita. . Dunque quando torna Caterina Ballivo ha detto Fatto? La presentatrice di Aversa, secondo quanto affermato da alcuni siti di recente, dovrebbe riprendere la guida della sua trasmissione 100 tutorial dalla prima settimana del mese prossimo, quindi da lunedì 2 ottobre. . Tre settimane di lavoro quindi per Serena Rossi, in arrivo direttamente dal red carpet della mostra del cinema di Venezia. Caterina Ballivo dopo Serena Rossi torna alla conduzione di Detto Fatto. . Dovrebbe tornare quindi dal 2 ottobre Caterina Ballivo ha detto Fatto, dopo la sostituzione firmata Serena Rossi dopo il Festival del Cinema di Venezia, da Napoletana e a Napoletana. Ricordiamo infatti che entrambe le artiste sono di Napoli, Caterina, come suddetto, precisamente è di Aversa. . Non è la prima volta che sui canali Rai si vedono delle sostituzioni per maternità, qualche anno fa Tiberio Timperi ha preso provvisoriamente il posto di Veronica Mai alla guida di verdetto finale, come Elisa Isoardi che ha sostituito, più a lungo del previsto, visto che è rimasta un anno e mezzo, Antonella Clerici alla prova del cuoco. . Serena Rossi non è nuova la conduzione, anche se la maggior parte delle volte l'abbiamo vista recitare, essendo un'attrice, di recente ha presentato in prima serata su Rai un on-goal per l'Italia, ma si è fatta apprezzare molto dal grande pubblico soprattutto qualche anno fa quando è stata letteralmente la rivelazione di tale e quale show. . Sul fronte privato, Serena è legata sentimentalmente all'attore Davide Devenuto, che ha conosciuto sul set della soap Un posto al sole, ambientata proprio nella sua Napoli, del quale è stata protagonista per anni, da lui ha avuto un figlio, nato lo scorso anno. . L'appuntamento con la prima puntata di Detto Fatto con Serena Rossi è dunque fissato per le 1.400 di oggi, lunedì 11 settembre, sulla seconda rete. .